Allora buongiorno ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV sul canale 17 come tutte le mattine in diretta ma anche in replica c'è la rassegna stampa sono le 7.30 perché ci segue in diretta e quindi ben ritrovati. Allora oggi è il primo di aprile una volta si facevano gli scherzi ci si divertiva ci si pensava anche su per stupire oggi siamo in realtà in un periodo dove c'è poco da scherzare e anche poco da ridere. Andiamo allora adesso a vedere il santo del giorno e poi andiamo a vedere le previsioni del tempo. Allora oggi è un santo che ha un nome strano particolare San Melitone di Sardi in realtà di questo santo sappiamo poco non abbiamo molte notizie sulla sua vita Eusebio di Cesarea scrive che fu vescovo di Sardi in Asia minore intorno al 170 quindi capite bene siamo proprio agli inizi del cristianesimo. Il sole è sorto alle 6.48 tramonterà il 19.35 il tempo per oggi venerdì lo vedete è un tempo parzialmente nuvoloso anche se questa mattina non so se riusciamo ad andare velocemente sulla telecamera esterna vedete proprio sembra autunno ma inverno anzi addirittura se non fosse per la temperatura che comunque non è rigida come a gennaio però ecco vedete proprio è grigio è una giornata grigia. Sabato invece andiamo sulla giornata di sabato 2 di aprile domani più o meno siamo sempre lì cielo parzialmente nuvoloso al mattino in diminuzione le temperature soprattutto quelle minime in lieve momento invece le temperature massime per domenica ci si aspettava cattivo tempo invece vedete la perturbazione è limitata semplicemente ai Sibillini alla parte meridionale della regione probabile scenario di tempo stabile anche per gran parte dunque della prossima settimana. Oggi arriva il ministro dell'interno Angelino Alfano presenterà il suo libro libro che verte sul problema del terrorismo sul problema del terrorismo che influenza chiaramente e condiziona la libertà di ciascuno di noi però ad attenderlo come era già avvenuto ma forse questa volta in maniera un po' più marcata ci sono alcune problematiche risolte come per esempio la questura di Pesaro all'epoca l'ultima volta che venne qui in visita a Pesaro promise la questura oggi dicono i sindacati di polizia invece attendiamo lo sfratto ma ci sono anche i tantissimi davvero numerosissimi furti che avvengono ogni notte a danno degli esercenti ma come vedremo questa mattina sul giornale anche a danno di privati cittadini entrano mentre noi dormiamo e allora tutto questo lo vediamo adesso sui due quotidiani perché il messaggero anche oggi non si riesce a scaricare perché c'è scritto sempre che è sciopero, sono in sciopero allora andiamo a vedere subito la pagina di Pesaro del resto del Carlino eccola qua, il ministro Alfano che oggi arriva in città ci promise la questura, oggi aspettiamo solo lo sfratto i sindacati di polizia lanciano l'allarme, cittadini sempre più insicuri allora dove chi vuole ascoltare, chi vuole sentire il ministro Alfano deve venire qua a Fano alla Sala Verdi alle ore 18 c'è questo libro che si titola Chi ha paura non è libero, di questo che è il titolo del suo libro ovvero degli effetti sociali ed economici del terrorismo parlerà oggi alle ore 18 nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna il ministro dell'interno Angelino Alfano con lui Mirko Carloni, Vilberto Stocchi, Amerigo Varotti, Alberto Galassi e Jacopo Frattini Carloni che dice il terrore va affrontato senza cedere agli sciacalli della paura e appunto sotto, come vedete, alla guerra contro il terrorismo il numero uno del Viminale presenta il libro sempre su questa visita chiaramente ci sono articoli anche sugli altri due quotidiani andiamo adesso invece a vedere l'altra notizia quella che riguarda Calcinelli quella che riguarda l'ingresso, l'intrusione nella notte mentre questa coppia dormiva tranquillamente l'intrusione di un ladro lei si sveglia, trova un ladro in camera il compagno lo mette in fuga qui dice con una mazza un vicino vede i banditi sfrecciare con un'auto e poi questo questo giovane Giacomo Vitali ieri ha lanciato un appello su Facebook dicendo hanno portato via solo una borsa dentro c'erano i documenti restituiteceli così ci evitiamo poi tutta l'altra fila che chi ha subito un furto di documenti conosce benissimo il duplicato eccetera c'è denunce soprattutto su denunce e racconta qui in questo articolo pubblicato sul giornale di questa mattina come è andata appunto l'altra notte ma non ci sono soltanto questi due giovani a Calcinelli per esempio nel quartiere di Loreto andiamo sul Corriere Adriatico di Pesero nel quartiere di Loreto le svaliggiano la casa mentre dorme nel quartiere di Loreto bottino di 3.000 euro richiedente asilo invece arrestato per spaccio di droga come vedete il bollettino di guerra è abbastanza fitto non solo anche coppie più note più famose andiamo a Senigallia prende l'arma e affronta i banditi assalto di notte nella villa di Jacqueline Donna e Luciano Girolimetti che reagisce è una coppia famosa perché lui è un imprenditore credo sia anche giornalista comunque conosciutissimo Jacqueline Donna chi non conosce Jacqueline Donna che è imprenditrice che ha gestito per tantissimi anni ne ha anche la discoteca a Marotta suona l'allarme la coppia sorprende i ladri che scappano con la borsa dell'imprenditrice e anche con la macchina un Audi e dunque si parla di assalto nella notte alla villa di appunto Jacqueline e Girolimetti che è riuscito a mettere in fuga i ladri non sono però andati via a mani vuote perché seppure sorpresi hanno arraffato al volo la borsa che l'imprenditrice aveva appoggiato sopra un mobile al cui interno c'erano alcuni oggetti di valore e soldi per un bottino stimato di circa 1500 euro e sulla pagina di Senigallia del Corriere di Oggi troverete tutta la cronaca e dunque questo è lo scenario è lo scenario che probabilmente conoscerà benissimo il Ministro dell'Interno colui che deve vigilare sulla nostra sicurezza deve garantire la sicurezza dei cittadini non solo chiaramente della provincia di Pesurbino ma di tutta Italia e non è solo una questione di terrorismo questa cosa fa molto più paura chiaramente ai cittadini del terrorismo cioè quello di essere presi d'assalto come sta accadendo in questi giorni dai ladri adesso velocemente andiamo avanti con la rassegna e subito i titoli gli altri titoli allora a Pesaro Matteo Ricci l'abbiamo detto ieri ha annunciato di voler dare qualche ora in più di musica nella sua città ebbene questa cosa ha fatto storcere il naso agli albergatori che adesso hanno paura perché si teme che si faccia chiasso musica in tutti i locali fino a lunedì notte si teme dunque qui si chiama inquinamento acustico ma tradotto è un po' di confusione a danno dei turisti che vengono qui magari per una certa ora per riposarsi l'ARPA non è scusate l'APA che è l'associazione dell'albergatore non è contraria a priori ma chiede che le misure adottate siano discusse e condivise via libera invece da confesercenti mentre il commercio contesta il metodo per la mancata concertazione cioè come dire è mancato accordo questura e organici problemi risolti le critiche dei sindacati di polizia al ministro che oggi arriva a Fano emergenza strutture e criminalità la popolazione poi c'è un'altra un'altra su questo ci torneremo noi stasera nel nostro telegiornale però c'è questo articolo di Senesi sul Corriere Adriatico interessante perché fotografa praticamente lo stato di salute di tutti noi cittadini che abitiamo nella provincia di Pesaro Urbino perché perché è stato presentato ieri il documento che si chiama profilo di salute dell'area vasta 1 2015 2016 che come ho già detto fotografa praticamente lo stato la realtà sanitaria del territorio e dunque potrete leggere in questo articolo quanti vivi quanti morti quanti stanno bene quanto stanno male quali sono le malattie che colpiscono di più le malattie professionali il più colpito per esempio è il settore dell'edilizia calano gli infortuni sul lavoro la causa di morte principale per esempio è quella cardiaca quella del cuore ecco quindi questa è la fotografia e c'è tutto quanto diciamo in questo articolo la pagina di Fano invece i nostri soldi i soldi che vengono gestiti dal comune di Fano attraverso chiaramente lo strumento del bilancio ridotti gli affitti passivi congelate le tasse grandi sacrifici sulla spesa corrente per il bilancio preventivo Carla Cecchietelli che è l'assessore comunale al bilancio del comune di Fano e alle finanze dice abbiamo mantenuto i fondi anticrisi previste alienazioni di altri beni quindi la vendita di questi beni per 5 milioni compresi i negozi che generavano canoni di locazione quindi verrà a mancare l'affitto però insomma vendono lo stabile quindi però tensioni ingiunta da parte di vari assessori tacitati con la promessa di integrazione di risorse durante l'anno significa stai zitto ti diamo i soldi per il tuo assessorato quindi non insistere quindi questo è un po' quello che è successo c'è stato uno schianto invece sulla rotatoria di via Roma un sinistro che è venuto pochi minuti dopo le 9 all'incrocio tra via Roma via Giustizia e via Palazzi nei pressi del ponte Storto un piccolo incidente che però ha provocato tante code poi c'è la partita del cuore la partita di solidarietà sabato domani alle 15 c'è la nazionale dei cantanti contro i campioni per la ricerca fanno per la vita pronti a giocare dunque cresce l'attesa per questo incontro di calcio dove arriveranno appunto i giocatori della nazionale cantanti a Mondolfo invece siamo in campagna elettorale ormai si avvicinano le amministrative di giugno e dunque la campagna elettorale si infiamma e adesso si punta il dito su questa ecco ve la faccio vi cerchio qui vedete questo palo questo sembra un campanile in realtà credo sia un lacquedotto qualcosa di simile dove sono installate delle antenne c'è la radiofonia e c'è anche ci sono le antenne della telefonia quindi la radiodiffusione e la telefonia ebbene adesso progetto comune interviene su Monte Ciappellano perché è quella si chiama così nuove case nella zona delle antenne la minoranza censura la mancanza di valutazione ambientale e verifica preventiva delle emissioni appunto che riguardano l'elettrosmog velocemente andiamo sul resto del Carlino la pagina di Fano eccola qua entro l'anno il primo centro per autistici mancano 50 mila euro ma dice il presidente della fondazione li troverò l'annuncio di Tombari della fondazione che parla già di un iter avviato certamente è una malattia diffusa l'autismo il centro per l'età evolutiva ha 220 persone in carico 200 visite al mese questo è l'articolo sul Carlino di Fano poi sull'ospedale invece no al project financing ma il PD dice decida la regione Ceriscioli ricompatta i democratici Ceriscioli che ha partecipato mercoledì sera ad una riunione che è servita come dicevo per ricompattare il partito democratico fanese tant'è che poi la maggioranza si è presentata unita all'appuntamento del Consiglio Comunale di ieri sera e ha votato la mozione senza battere ciglio poi l'altra pagina del Carlino anche qui l'abbiamo visto lei si sveglia e trova il ladro in camera questo l'abbiamo visto eccolo qua invece la pagina di Fossombrone peculato condannato un funzionario era il responsabile del servizio cimiteriale del comune di Fossombrone due anni e sei mesi di reclusione per peculato poi sotto invece e qui chiudo Sgarbi non so chi l'ha visto ieri sera a me è capitato per sbaglio di girare e di vedere Rai 2 Sgarbi ha virus ha fatto un bel intervento poi chiaramente con il suo modo di fare quindi usando anche parole colorite ma insomma ha colpito e ha centrato il problema guardate scandalo delle paleoliche ad Apecchio il critico ieri sera su Rai 2 in prima serata si è appellato a Renzi non solo a Renzi pur a Mattarella il Presidente della Repubblica ma insomma soprattutto a Renzi per dire di bloccare questo scempio e lo scempio qual è? è quello che si capisce benissimo da questa fotografia da questo bel panorama tutte le colline vedete queste armoniose colline che si vedono in questa fotografia con tre frecce che indicano il luogo i tre punti nei quali verranno installate e lo si sta facendo perché già ha fatto vedere ci sono proprio le basi di cemento si stanno installando questi tre mostri alti 120 metri queste paleoliche davvero orrende bruttissime che non serviranno assolutamente a niente perché spesso saranno lì ferme come sono ferme tantissime paleoliche in giro per l'Italia però questo è e purtroppo saranno lì a imbruttire un paesaggio meraviglioso dipinto anche da Pio della Francesca però purtroppo è così quindi speriamo che ma non credo che succederà niente qualcuno fermi questo scempio spacciava Ascici al Miralfiore è restato un 22enne del Gambia è un richiedente asilo politico ospite di una struttura di Pesaro i carabinieri hanno intensificato i controlli nel cuore verde di Pesaro e poi Razzia in casa ecco questo c'era sfuggito ma no l'abbiamo letto sul Corriere vabbè Razzia in casa mentre la proprietaria dorme l'allarme è stato lanciato al risveglio bottino intorno ai 5.000 euro è tutto Occhio giornali finisce qui ci vediamo stasera alle 20.30 con Occhio alla Notizia il telegiornale di Fano TV arrivederci a